preparati al video stavo entrando in una stretto vicolo sorrentino il secondo da oggi tra poco, tra poco io tengo le braccia dentro la macchina bisogna farti tre volte il segno della croce prima di entrare è la tradizione, eccolo guardate quanto è stretto metti gli abbaglianti, metti gli abbaglianti si avvisa per evitare che... per avvisare che c'è gente c'è gente che passa ed è... a macchina ragazzi qua non ci passavano neanche i carri bisognava andare a cavallo e anche le ragazze un po' grassi ci passano oh, sta finendo io mi sto spaventando ma hai doppio senso? mamma mia che è felice che stiamo facendo cioè signori, guardate cioè il muro è proprio... prima che adesso finirò la zona conosciuta in cui so che ci passo ah, quindi andremo piano di cui ce l'ho mai fatta andiamo piano e così siamo tutti felici spaveremo un maccino in mezzo alla strada ma dovremmo avere dei paloncini rossi come riferimento che ancora non vedono a te è finito quindi vuol dire che... no no finistro vabbè qua... qua è normale non 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 ma